La Nato mostra muscoli ma evita le tensioni con Mosca. I ministri della difesa riuniti mercoledì a Bruxelles svelano il piano per l'invio di truppe dell'Aleanza nei confini orientali. È importante e necessario che la Nato risponda a fronte del massiccio rafforzamento militare che la Russia ha intrapreso da molto tempo. Il piano prevede lo spiegamento di quattro battaglioni nei paesi baltici e in Polonia, una strategia che la Nato vorrebbe adottare anche in quei paesi che si affacciano sul Mar Nero, vicini alla Crimea. Ma l'invio di qualche migliaio di truppe è più che altro tattico, spiega un esperto. La Nato e gli alleati si aspettano che un contingente di militari e diplomatici entri in azione se dovesse scoppiare un conflitto o se le forze russe dovessero uccidere un britannico, un americano, un tedesco, un canadese o qualsiasi altro militare. Ciò scatenerebbe immediatamente una crisi diplomatica. Dopo aver rafforzato i suoi confini a nord-est, la Nato stabilirà la sua presenza anche nel sud-est. Tuttavia, fonti diplomatiche affermano che il piano potrebbe essere ritardato dalla Turchia, che specialmente dopo il fallito colpo di Stato è riluttante a cooperare con Bulgaria e Romania. Il presidente Erdogan vuole avere un ruolo chiave nella regione del Mar Nero, che lui stesso ha descritto come un mare praticamente russo. Euronews, Bruxelles.